Se si va sul sito del Ministero della Salute, nuovo coronavirus, domande e risposte, sicuramente questo è importante sul canale YouTube, quattro video informativi del Ministero, quindi è il principale modo per informare la cittadinanza. Proviamoci, vediamo un po' cosa succede. Riprovo. Siamo qui in attesa che si muova, ma come vedete è di fatto bloccato, non parte, perché il sito è abbastanza evidente che sia sovraccarico. Quindi il Ministero della Salute non è in grado, visto che si parla tanto di 4.0 e cose del genere, di poter rispondere a tutti. In questo caso è bloccato, avevo fatto un altro tentativo, proprio il servicer unavailable, cioè quindi non era proprio disponibile e questa è la situazione. Questa è una grave carica. Eccola qua, è impossibile raggiungere il sito. Ditemi voi se questo è il giusto inizio per affrontare l'emergenza coronavirus. Grazie a tutti. Grazie a tutti.